Come annunciato nei giorni scorsi, la Lucchese sceglie un allenatore di categoria, un allenatore con esperienza, un allenatore che ha ancora tanta fame. Mister Ivan Maraia l'abbiamo conosciuto ai tempi che fece il salto da secondo di Paolo Indiani a primo allenatore e lì disse che si metteva in gioco. Oggi si rimette in gioco in una piazza diversa perché esce dalla sua zona di comfort che era Pontedera e giustamente ha già capito che la musica è diversa anche per una questione di tifoseria, una tifoseria che chiede quello che lei ha promesso. Che male che vada la squadra giocherà sempre col coltello fra i denti. Sì è vero, è un'altra sfida, sfida diversa, bella, affascinante ma con caratteristiche diverse per questo aspetto della tifoseria, dell'importanza della tifoseria della città e della società. Non deve avere assolutamente caratteristiche diverse da quelle della mia squadra precedente perché credo che questo sia un valore fondamentale, molto più decisivo di tante altre cose. È stata sempre una caratteristica della Lucchese quindi non credo di stravolgere tanto, va confermata, va alimentata questa cosa perché ci deve essere la volontà di fare cose importanti. Dopo aver raggiunto i playoff della passata stagione cercare di fare le cose positive. Oltretutto Mr. Maraia è un allenatore abituato al minutaggio dei giovani, sul piatto del budget del presidente due giorni fa ci ha spiegato che la Lucchese deve far conto su quegli 800 mila euro che devono arrivare. Quindi già sa che il suo sarà un grande lavoro anche di motivazione di questi ragazzi. Sì, questa cosa non mi spaventa perché ovviamente precedentemente il mio approccio con questo aspetto era totale, l'ho sempre condiviso senza nessun tipo di problemi, non mi ha mai spaventato. Quindi non lo sarà neanche qui al di là del numero dei ragazzi perché comunque il rapporto con i ragazzi l'ho sempre avuto positivo. Credo di avere la capacità di poter stare con loro in una maniera giusta e quindi questa cosa non è importante per me. È chiaro che la società con un numero minore rispetto a prima però precedentemente nella mia situazione vorrà fare con qualche ragazzo. Lo faremo senza nessun tipo di problema perché anche con i ragazzi si può fare cose importanti, prestazioni importanti e ottenere anche dei buoni risultati.